Il nostro difetto che abbiamo è che non riusciamo a chiudere la partita. Siamo riusciti a creare tantissime occasioni nel primo tempo, il rigore purtroppo si sbagliano, quello è il calcio, ma è un nostro grosso difetto che non riusciamo a chiudere la partita. Per quanto riguarda il secondo tempo siamo calati fisicamente, lo sappiamo tutti, stiamo lavorando con il mister e lo staff per cercare di migliorare la nostra prestazione atletica e faremo del nostro meglio. Noi lavoriamo con il mister, anche in allenamento vuole che segniamo sempre, anche i gol più semplici perché se segniamo durante l'allenamento in settimana ci viene facile segnare anche la domenica. Purtroppo dobbiamo migliorare su questi episodi che alla lunga sicuramente verranno a nostro favore. Meritiamo sempre nell'arco dei 90 minuti, però purtroppo siamo qui ad analizzare l'ennesimo risultato, se posso dirlo negativo perché sì, ok, un pareggio, abbiamo messo la classifica, però per come è andata la partita, per le numerevoli occasioni che abbiamo avuto non ce la faccio a stare sereno, non ce la faccio veramente a pensare che abbiamo pareggiato anche oggi. Vedere gli avversari che esultavano per un pareggio mi ha costato veramente tanto questa giornata. Che si fa in questo momento? Si fa quadrato, come sempre, insieme alla nostra splendida gente perché il contributo c'è dall'inizio alla fine, anzi il complimento forse va soprattutto a loro perché in questo momento delicato in cui non andiamo ad analizzare sempre le solite cose, però loro ci stanno dando una mano incredibile e noi veramente se avessimo vinto oggi era tutto per loro.